Non si placa la protesta di chi si vede recapitare dalla concessionaria Andreani Tributti le bollette della Tari. Nei mesi scorsi Fano TV aveva raccolto la testimonianza e le richieste di imprenditori e proprietari di palazzi storici che si sono ritrovati a dover pagare cifre esorbitanti a causa di metrature cambiate e arretrati da restituire. Oggi a chiedere spiegazioni sono i consiglieri della Lega che continuano a ricevere segnalazioni dalle aziende sanzionate. Torniamo a parlare di Tari perché a distanza di qualche mese dalle promesse che erano state fatte dal sindaco e dall'assessore competente i imprenditori di Fano stanno ricevendo ancora nuove cartelle, qualcuna addirittura milionaria. Noi non siamo, come abbiamo detto, per dire che le persone non devono pagare le tasse dovute. Noi vogliamo che le persone non siano in un momento di difficoltà come questo, dove gli imprenditori si affannano per continuare le proprie attività e continuare a dare il lavoro non siano vessati da questi provvedimenti che riguardano dei cambi legislativi tutti ancora da appurare. Quindi una tassa che deve essere rivista, rimodulata? Sicuramente questa tassa deve essere rivista e il Comune di Fano deve, come fanno altri comuni di questa zona, rivedere la tariffa che viene pagata. Sui parcheggi blu invece qual è la posizione della Lega? La posizione della Lega è la stessa che avevamo a dicembre del 2019, quando per primi siamo intervenuti. Ad oggi è evidente che anche questa persecuzione dei parcheggi, delle strisce blu, sia, come la vicenda della Tari, uno strumento del Comune per fare cassa. A discapito di operatori turistici e di cittadini che si troveranno a dover pagare un parcheggio neroso per passare una giornata al mare oppure a cercare in vano il parcheggio per delle ore per evitare di pagarlo.